Ciao, bentornati nella mia stanza e oggi faremo un video un po' diverso diciamo e praticamente proveremo insieme dei dolci giapponesi o comunque roba da mangiare giapponese che mi è stata gentilmente offerta da mia sorella perché è stata a Londra e mi ha portato roba giapponese per il mio compleanno quindi cominciamo su do con dolci vari allora vediamo prestamente quello che mi ha portato cominciamo da questi dolcetti che non ho la minima idea di cosa siano presumo siano caramelle ripiene di qualcosa vediamo perché su alcuni ad esempio c'è l'etichetta in inglese perché comunque è stata comprata in inglese c'è l'etichetta in inglese cosa c'è scritto su questo invece piccolino no ma penso che sia roba di coca cola o comunque cola perché vedo che c'è il disegno di cola vediamo oh sono dentro una vaschetta sono tre piccole caramelle sono tipo gomme forse è super pastoso le prossime sono queste che sembrano gelatine a quanto pare non capisco dietro ci sono tipo disegni di della riproduzione delle rane cose del genere praticamente sono gelatine a forma di di rana ok vediamo super odore ok praticamente ci sono tutti gli stadi della bella rana c'è l'uovo questa è la rana forse si è rotta comunque c'è una rana e c'è il girino le caramelle giapponesi che spiegano la riproduzione e la crescita delle rane assaggerò l'uovo magari non so se sono gusti diversi grape juice quindi ha scusate non olio succo d'uva succo di limone scusate non limone perché detto limone di meno buono penso che questo fosse la con la l'uva magari quella verde sarà la mela proviamo non so a me sembra uguale è buona sono tanto buone prossimo saranno questi che sono tipo croccantini ripieni uno è al gusto di cioccolato mentre l'altro è al gusto fragola quindi adesso proveremo allora oh che teneri sono praticamente dei biscottini sono praticamente dei biscottini con disegnato un un koala che carucci buono mi ricorda un po' quel biscotto che stanno facendo adesso con la nutella dentro proviamo con la fragola adesso è super mega dolce questa è la fragola perché comunque è cioccolato la fragola che buoni ma prima i pochi oh mio dio bellissimo cioè guardate che carina la bustina certo che in Giappone c'è proprio il culto di fare le cose super mega carine ovunque qualsiasi cosa che carina sono rosa penso che avranno lo stesso sapere dei biscottini di prima super favoloso voglio aprire anche questi e se riesco ad aprirli questi non sono così carini e adesso le ho lette i tablico sono tutti appaccati questa Ardegna fa tipo caldissimo non so non sembra affatto inverno quindi si sono tutti appaccati finalmente adoro i dolci proviamo questi vediamo Dan Rock sono particolarmente dei crackers di riso vari perché hanno anche arachidi e cose varie c'è anche estratto di pollo e maiale quindi non è consigliato per i vegetariani vediamo si apre di qua oddio ecco questo non so se vi piacerà perché ha un fortissimo odore di di alga super allora di alga e questo oh no questo non ce la posso fare a mangiarlo io odio le alghe le ho mangiate le ho assaggiate perché dovevo assaggiarle però non lo so se ce la posso fare no non ce la posso fare prendiamole un altro ma avranno certi sapri di alga adesso che sono stati richiuditi chiedere questo sa di forse i gamberetti proviamo non so di cosa sia però questo era buono è una cosa piatta non capisco cosa sia sa tutto lo stesso odore però il sapore è vagamente diverso si sente che sono di riso perché sono molto leggeri comunque io voglio una di quelli con gli aracchili e via le alghe via oddio questo è piccante è piccante è piccante super piccante io non mangio per niente piccante quindi anche un minimo di peperoncino mi manda a fuoco la lingua ok ce la posso fare voglio le palline ok ho trovato una pallina questo dovrebbe avere l'arachide dentro forse si ho l'arachide solo che si è spaccato questo è di pesce questo è di pesce misto ad arachidi è strano molto strano non è cattivo però è strano non è una cosa che mangerei tipo oh guarda oggi ho proprio voglia di ecco no ok troviamo queste dovrebbe essere patatine tipo patatine oddio al curry oddio muoio si sempre crackers di riso al sapore del curry oh bene si può anche richiedere fantastico perché che vediamo oh oh il curry è piccantissimo oddio sono piccante ok sono tornata dopo aver bevuto tutta l'acqua che ho in casa perché io non tolgero per niente per niente il piccante quindi ho ancora la bocca che va lievemente a fuoco non troppo ma moderatamente a fuoco niente questo erano le mie il mio primo assaggio del cibo nipponico spero che vi sia piaciuto che vi siate divertiti a vedermi andranno le fauci perché spero che vi sia piaciuto e noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao